Avversario di rango per il Teramo al Bonolis ci sarà il Cesena, vice capolista del girone Mr Guidi, che è squalificato al suo posto in panchina il vice Andrea Cupi, agli uomini contati Benotto, gli indisponibili lo squalificato Mungo e gli infortunati Rosso, Trasciani, Chiere Mateng, Birligia, Rossetti, Fiorani e Cucurullo. Vista l'emergenza potrebbe anche esordire dall'inizio il nuovo arrivato in bianco rosso Mattia Lombardo, così Guidi in conferenza pre-partita. È una partita in cui saremo in grande emergenza e quindi dovremo fare di necessità virtù, ma questo non deve essere assolutamente nessun tipo di alibi, ma come ho detto a ragazzi sarà anche un'opportunità per coloro che magari hanno fino ad oggi avuto meno minutaggio e che avranno la possibilità di giocare una partita straordinariamente bella da giocare, molto stimolante, molto motivante e quindi sarà una grande opportunità per tutti. Detto questo io penso che l'identità, l'atteggiamento, la mentalità non deve cambiare, perché poi scriveresti un tema a cui non sei preparato e quindi secondo me rischi di fare una pagina bianca, di consegnare un compito un po' insufficiente. È chiaro che dobbiamo adattarci alle difficoltà, ma questo è anche un'opportunità per dimostrare, per fare qualcosa in più tutti quanti, sia nella gestione delle situazioni, nella gestione delle partite. La nostra mentalità e la nostra identità non deve cambiare. Il Teramo è in serie positiva da cinque turni, ma in casa Balbetta, nei cinque precedenti, ha vinto una sola volta, per il resto due stop e due pareggi. Eccezionale invece il cammino in trasferta del Cesena, quattro vittorie e un pari, in casa ospite indisponibili Lepri, Adamoli, Candela e Zecca. Questo il probabile undici Teramano, Tozzo in porta, a presidio Bois, Soprano o Bellucci, Piacentini, Rillo, a centrocampo a Zesmanovic, a Rigoni o Lombardo, Viero. In avanti il tridente Malotti, Bernardotto di Dio, dirige Giuseppe Cossu di Cagliari.